Amici di Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di domenica che vedrà condizioni meteorologiche buone. In Italia la pressione atmosferica comincia a salire ma l'atmosfera resta comunque un pochino instabile. Controlliamo intanto la nuvolosità attesa sul nostro paese. Come vedete non mancheranno ampie zone di sereno davvero da nord a sud, passa qualche annuvolamento nelle regioni meridionali, qualche nuvola poi si formerà nel pomeriggio nelle zone interne del centro-sud ma nel complesso, ripeto, giornata discreta. Qualche piovasco però sarà ancora possibile. Controlliamo infatti le precipitazioni attese sull'Italia e qualche macchionina azzurra la vediamo ancora, soprattutto nelle regioni meridionali versante tierrenico e poi nel pomeriggio spunteranno degli acquazzoni a ridosso della dorsale appenninica. Quindi in definitiva ci attende una domenica, ripeto, discreta in gran parte del paese, non mancheranno ampie zone di sereno. Però un po' di variabilità al centro-sud è ancora da mettere in conto, qualche acquazzone sul basso tierreno, qualche piovasco a ridosso della dorsale appenninica, però fenomeni isolati e di passaggio. Come temperature guardate siamo nella norma, si starà abbastanza bene in tutta Italia, sfioriamo i 20 gradi bene o male da nord a sud. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà proprio da voi scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.